Buonasera, bentrovati dalla redazione web della città. Siamo arrivati a mezzanotte, sono passate dieci ore dall'inizio dello scrutino delle elezioni provinciali. Non abbiamo ancora finito perché la notizia è proprio questa. Manca ancora un seggio per quanto riguarda l'elezione diretta del Presidente, due seggi per quanto riguarda l'elezione del Consiglio provinciale. Ovviamente parliamo dei 919 seggi della città. Andiamo a vedere con l'aiuto dei nostri cartelli quali sono sin qui i voti arrivati per entrambe le due elezioni, partendo dal cartello relativo alla coalizione che sostiene Antonino Saitta. voti al Presidente sono quelli che vedete accanto al nome, 47,79%. Più in basso trovate invece le varie liste con le varie percentuali di ciascuna lista. Posso dirvi che il totale del raggruppamento per la candidatura di Saitta è del 47,01%. Passiamo poi al cartello successivo è quello relativo alla sfidante Claudia Porchietto che raccoglie il 38,90% dei consensi come candidato Presidente. Il raggruppamento che è quello formato dalle liste che vedete sotto il nome del candidato Presidente raccoglie il 39,54%. Terzo cartello è quello relativo al candidato Michele Vietti che come Presidente raccoglie il 4,07% dei consensi, la lista, il raggruppamento è formato da una sola lista, è quella che vedete al di sotto del nome, il Casini in Libertas Unione di Centro, 4,16%. Terzo cartello è quello relativo all'altro candidato che supera il 3%, si tratta di Renzo Rabellino, 3,06% per quanto riguarda la candidatura alla Presidenza per il raggruppamento che è quello elencato nelle liste al di sotto del nome, siamo al 3,27% per quanto riguarda il cumulo dei voti. Gli altri cartelli stanno ora scorrendo sul video e riguardano gli altri candidati. Li vedete ora in questo momento. Vi ricordo che siamo sempre su 918 seggi per quanto riguarda l'elezione del Presidente e 917 per quanto riguarda l'elezione del Consiglio. Mi arriva in questo momento una comunicazione che riguarda i seggi in questo momento ancora in sospeso. Il centro raccolta dati di Via Ventimiglia dice che entro 30 minuti, speriamo, dovrebbe risolversi la situazione dei seggi mancanti. Quindi, grazie a Franco Carcillo che mi ha portato questa comunicazione, dovremmo nel nostro prossimo collegamento di mezzanotte e mezza riuscire a darvi il dato definitivo sia per quanto riguarda il Presidente sia per quanto riguarda il Consiglio Provinciale. Speriamo, speriamo in bene e ci vediamo tra mezz'ora alla mezza sempre su questo canale. Buonasera, anzi buonanotte dalla città di Torino, dalla redazione web. Siamo in onda dalle ore 14 di oggi a seguire lo scrutino dei voti per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale. Siamo davvero verso la direttura finale per quanto riguarda i seggi presenti sul territorio cittadino. 919 su 919 sono i seggi pervenuti per l'elezione del Presidente. Ne manca uno per quanto riguarda l'elezione del Consiglio. È un seggio che dovrebbe essere imputato nel sistema informatico entro breve perché dovrebbe essere in fase di arrivo. Quindi vi invitiamo a rimanere in ascolto. Potete seguire i dati sullo schermo, i dati provenienti dal centro di raccolta dati sia per quanto riguarda il voto Presidente, il voto delle liste che appoggiano i vari candidati. Noi interromperemo questo flusso appena avremo il dato finale che, come ripeto, speriamo di potervi dare entro pochi minuti. A più tardi.